2 anni e 6 mesi di reclusione e la condanna inflitta ieri dal tribunale di Astia Massimo durante 54 anni impiegato della motorizzazione civile. Secondo l'accusa si sarebbe fatto consegnare 100 euro per agevolare una pratica di revisione di una BMW. Il giudice è anche condannato ad un anno e 7 mesi di reclusione, il proprietario della vettura Lorenzo Quagliato 57 anni, tapeziere a Ignazio Giovine 37 anni, muratore che avrebbe fatto da tramite per agevolare la revisione della BMW su cui erano stati montati spoiler e minigonne speciali, sono invece stati inflitti due anni ed un mese di reclusione. Ieri mattina i carabinieri hanno arrestato due operai sorpresi a rubare mattoni da una casa in ristrutturazione a Rocca d'Arazzo. Elio Vettoretti 28 anni e Mario Virgilitto di 52 anni entrambi di Astia avevano già caricato 300 mattoni su un autocarro quando sono giunti i militari dell'arma. Sull'automezzo avevano anche caricato due bigonce di legno. E questa mattina l'onorevole Massimo Fiorio ha tenuto una conferenza stampa denominata Operazione Verità sulla Sanità dell'Astigiano. In particolare il parlamentare Astigiano interroga il commissario straordinario della SL Galante sull'ospedale della Valle Belbo e sulle case della salute. Sentiamo. C'è una questione molto calda che è quella dell'ospedale della Valle Belbo. Ora in questo momento che è il cantiere più grosso aperto nella provincia di Asti, i lavori sono previsti per 32 milioni di Euro, non c'è la certezza del finanziamento in quanto in questo momento esiste soltanto la quota che avrà destinato lo Stato, i 14 milioni di Euro, manca la restante parte, ci sono soltanto delle parole in proposito. Nel frattempo il cantiere è fermo da mesi, evidentemente l'impresa non si fida di quello che sta accadendo, si paventano, anzi c'è la certezza di modifiche del progetto, ma nonostante tutto il commissario Valter Galante sta rassicurando i sindaci che addirittura questo ospedale verrà implementato nei servizi aumentandolo dagli 80 più 80 per lo meno a una prima fase a 130. Allora noi sosteniamo che 130 posti letto in un piano solo, come sta dicendo, non è credibile, deve chiarire funzionalmente come può realizzare quella situazione. Noi presenteremo delle domande sull'ospedale della Valle Belbo la prossima settimana in occasione di incontro con il gruppo consigliare del PD regionale che avrà inizio a Monferrato, sulla questione dell'ospedale della Valle Belbo. Nel frattempo però, per non farci mancare niente, noi abbiamo ancora forti perplessità su quello che sta accadendo sulle case della salute previste nella provincia di Asti. Noi sappiamo che sono state riparametrate il rapporto popolazione-case della salute da 15.000 a 50.000 con una dislocazione territoriale che rischia di creare notevoli problemi a molti comuni. Io ho fatto l'esempio che un cittadino di Grana, per esempio, dovrà recarsi addirittura a Villa Franca per usufruire dei servizi di quella casa della salute. È una questione che deve essere riparametrata, riconsiderata. C'è anche un problema nell'ospedale della città di Asti. La soppressione delle prestazioni accessorie rischia sicuramente, sta già accadendo un allungamento dell'istattesa, e mette fortemente a rischio, anzi compromette l'accesso tempo zero, che era stato uno dei fiore all'occhiello della sanità dell'Astigiana. E qui da Asti per oggi è tutto, grazie per l'attenzione. Restituiamo la linea allo studio.